Sesta tappa, sesta tappa e si parte, si cammina e si va. Il senso del camminare profondo, si ha il coraggio di partire, non si è sicuri di niente, non sai chi incontrerai per strada e spesso neanche di quale strada troverai a percorrere. Camminare significa rischiare, buttarsi, andare, è un andare verso, un andare cercando qualcosa, qualcuno. Nel cammino impari cosa significa faticare, impari a guardarti intorno perché tutto non corre veloce come quando sei in macchina, ma va al ritmo del tuo passo, chi cammina si fida. Buon cammino! Buon cammino! Buon cammino! Buon cammino! Grazie mille! Grazie mille!